Buongiorno, ci incontriamo nel video di oggi per parlare di un altro punto di agopuntura, lo stomaco 27 in lingua cinese, Dayu o Ta Chu. Questo agopunto si localizza uno sun sotto il livello dell'ombelico e due sun lateralmente a ambo i lati. Dayu, tradotto in latino, diviene norma magna e che in italiano significa la grande misura dell'angolo, un riferimento inizialmente anatomico, infatti il punto si localizza ad angolo retto tra l'orizzontale e la verticale ombelicale. Tuttavia grande misura dell'angolo è un termine allusivo che indica la conquista della stazione retta a livello evolutivo dovuta, tra altri fattori, all'incremento della forza dell'orbita funzionale rene. Grande misura dell'angolo è un termine altrettanto allusivo al recupero di forma fisica dopo malattia individuale dovuta questa capacità di recupero a un incremento della forza dell'orbita funzionale rene. Ora vediamo le indicazioni cliniche per stomaco 27, almeno per come risultano dei testi antichi. questo agopunto sostiene i kine al riscaldatore inferiore e sostiene per l'appunto l'orbita funzionale rene. Nell'orbita funzionale rene si trova infatti la riserva di energia struttiva individuale in la forza vitale, la tenacia, la volontà, la capacità di sopravvivere anche in condizioni che non lo consentirebbero. L'espressione italiana colpo di reni viene utilizzata infatti per indicare uno sforzo breve e intenso con il quale si raggiunge all'ultimo momento un obiettivo che sembrava ormai sfuggito. Proprio per la capacità di sostenere l'orbita funzionale rene, stomaco 27 si applica nel trattamento riabilitativo dell'emiparesi quando coinvolge soprattutto l'arco inferiore e si esprime anche con atrofia muscolare. Sempre per il sostegno all'orbita funzionale rene, stomaco 27 si applica per il trattamento dell'eiaculazione precoce della sperma torrea, entrambi sintomi conseguenziali al vuoto di rene. Stomaco 27 si applica anche per il trattamento della grande stanchezza, l'astenia associata ad insonnia. Sempre a sostegno dell'orbita funzionale rene, stomaco 27 si applica nel trattamento dei disturbi della minzione, in particolare il paziente lamenta poliuria, anuria, stranguria, nicturia, spesso accompagnate da sete e da un bel dolore nel basso addome. Un vuoto di orbita funzionale rene si manifesta con il campo emozionale dell'ipopaura. Stomaco 27 si applica pertanto nel trattamento della timorosità eccessiva dell'ansia e dell'angoscia. Un vuoto di orbita funzionale rene si manifesta infine con la propensione a produrre incubi. Stomaco 27 si applica per ridurre la loro insorgenza soprattutto quando diventano particolarmente impegnativi e debilitano il soggetto che li produce. L'agopuntura è una terapia riconosciuta dalle maggiori istituzioni sanitarie in Italia. È atto medico fin dal 1984 e l'UNESCO l'ha definita patrimonio culturale dell'umanità. Bene, siamo alla fine del video di oggi. Lasciate un commento o una domanda sarà mia cura rispondere a tutti. Spero di vedervi presto ancora. Arrivederci!